Lasciarvi, per modo di dire, in maniera così, buone mani ovviamente, con un brano del grande Light in Opinus. Vi lascio con questo brano e con una buona notizia che ho letto ultimamente, che Gigi D'Alessio vuole abbandonare la musica. Non so se è uno scherzo, ma se abbiamo visto delle foto, insomma, inidite ancora. In fondo, in fondo al biglietto c'è scritto, in meritate gente come Antonio Del Vente. Baby, you miss three of me all the time. I said, baby, you miss three of me all the time. You miss three of me, mama. That you will, you change your mind. Baby, now what's wrong, how the dawn? I said, baby, now what's wrong, how the dawn? I try to keep me, baby, when I try to, am I found? That you will, you pass me, when I try to, am I the only one day. It's going to be chill. Che совершstone, but not anunciato. Sì, 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 Sì Sì, Sì, Sì Sì, Sì Sì, 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 Sì Sì